Chi era Amerigo Vespucci, l'esploratore fiorentino del Nuovo Mondo? Firenze ricorda la famosa spedizione del navigatore italiano che dette il nome all'America. Attraverso le immagini, un'esposizione ripercorre la sua avventura e le conseguenze di tale scoperta nell'economia mondiale. All'interno di un'atmosfera rinascimentale, Vespucci racconta la sua incredibile storia. Amerigo Vespucci, palazzo di parte Guelfa, Eva Pratesi si ten. Grazie per la visione!